Ciao, sono Davide Pascolo e gioco nell'Olimpia, basket, Olimpia Milano. Ho avuto modo e la fortuna di lavorare con Cristian, Cristian Verona, a Trento per tre anni, se non sbaglio, sì, tre anni. Due anni di Lega 2 e un anno in Serie A in cui abbiamo affrontato anche l'esperienza dell'Euro Cup. Con Cristian mi sono sempre trovato bene. È un gran lavoratore, un preparatore ovviamente con cui ho lavorato molto sulla forza, sono migliorato molto da quel punto di vista. È un lavoro comunque che tiene conto delle diverse esigenze di ognuno di noi, riferito ai nuovi giocatori della squadra. Quindi c'è chi può lavorare, c'è chi a cui serve lavorare di più per la schiena, magari c'è chi ha bisogno di più forza nelle gambe o c'è chi può fare un esercizio o meno. Quindi è molto attento anche ai particolari. Quindi quello che posso dire è questo. Poi il nostro rapporto va al di là di questo e comunque sono stato, sono contento di aver lavorato con lui e ci sentiamo comunque spesso. Detto questo, quindi sicuramente per quanto mi riguarda la mia esperienza è un bravissimo preparatore e quindi vi troverete sicuramente bene. Ciao!